Eccolo qui, lo vediamo, scusa, 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 la porta, si ho la porta, eccolo qui, arriva, si guardiamo noi. E con qui, di Boccuori, direttamente da Liverpool, qualche posa, anche per i fotografi speciali del Milan, guardiamo, 3 milioni e mezzo per 4 ore, la sua prima avventura in Italia, per quello che si avvicina. Grazie.